La classifica dei film candidati agli Oscar come miglior film dal peggiore al migliore. È un po' che volevo fare questa classifica, quest'anno sono stranamente in paro con tutti e dieci film candidati all'Oscar come miglior film e volevo quindi parlarvi di ognuno di loro mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza che ci porteranno poi alla notte degli Oscar che ci sarà nella notte fra domenica 10 e lunedì 11 marzo. Vi ricordo che la seguiremo in diretta su Ciaccheazione commentandola per voi in italiano, la diretta televisiva ci sarà su Rai 1 stranamente quest'anno la tv pubblica ha deciso di trasmetterla in diretta e noi la commenteremo per voi stile Jalappas Band su Ciaccheazione su YouTube e Facebook a partire dalla tarda serata di domenica 10 marzo. È ovvio che fare una classifica dei 10 film candidati a miglior film non è semplice anche perché sono tutti bellissimi film che sono stati candidati in quella categoria proprio perché danno quel qualcosa in più e trasmettono allo spettatore delle emozioni contrastanti. Alcuni sono biografici, altri di satira, una satira che va a colpire quest'anno soprattutto la società americana e devo dire che sono dei bellissimi film tutti e dieci. Al decimo posto ho messo Maestro, il film con Bradley Cooper, diretto e interpretato da Bradley Cooper che parla del famoso compositore Bernstein. Beh, allora, l'ho messo al decimo posto perché rispetto a film come A Star is Born che era stato fatto per il pubblico e quale il pubblico aveva risposto con entusiasmo e qui è chiaro che Maestro è stato fatto per degli Oscar, come esca per l'Academy. È stato fatto proprio per piacere all'Academy anche se poi è un film un po' mozzato, ti lascia un po' con quell'amaro in bocca, poteva essere meglio. Non è male, con questa alternanza di bianco e nero è il lato più umano di questo compositore, i suoi segreti. È un film che risulta un po' noioso, un po' pesante, anche se Bradley Cooper lo adoro e avrà modo, secondo me, di accaparrarsi la statuetta sia in futuro come miglior attore sia di vincere con un proprio film diretto. Al nono posto metto Past Lives, l'esordio della regista Celine Song che ha messo a nudo la sua anima in questo film. E mi è piaciuto particolarmente il tema di questi due amici d'infanzia che trascorrono un weekend a New York dopo 24 anni e riflettono su cosa sarebbero potuti essere nella vita. E mi piacciono sempre queste introspezioni sull'amore che non è stato. E ho apprezzato molto il primo film di questa regista, anche se è un po' lento. Ripeto, anche qui sono tutti bellissimi i film candidati come miglior film, ma dovendo fare una classifica e mettendo alla pari cosa mi ha lasciato un film piuttosto che un altro, ho deciso di metterlo al penultimo posto. Anche se è un film che consiglio di vedere, perché ci sta, l'amore è sempre un po' bisprattato ultimamente, cerchiamo sempre di trovare nei film qualcosa che ci sciocchi, che sia scioccante, che sia sconvolgente. In questo caso non c'è nulla di sconvolgente, anzi ci riporta un po' a quando eravamo bambini, adolescenti, a quell'amore adolescenziale e al quale ripensiamo magari, no? Quando c'è stata qualche cotta da adolescenti che non si è poi trasformata nell'amore della nostra vita, ma che è rimasta comunque chiusa nella nostra mente e nei nostri ricordi. All'ottavo posto, American Fiction. Un film che non mi è dispiaciuto, anzi che è molto più leggero rispetto agli altri candidati e che vede un Jeffrey Wright davvero molto bravo, anche perché anche lui candidato come miglior attore, parla di questo scrittore, di questo sceneggiatore americano e che a un certo punto dice al pubblico americano piace solo la merda e quindi scrive un libro pieno di stereotipi per fare leva sul razzismo e sulla sofferenza dei neri e si trasforma in un'altra persona e deve far finta di essere un detenuto che ha scritto questo libro. È molto divertente, molto divertente, con un colpo di scena finale che ho apprezzato molto. American Fiction, un film che si fa guardare dall'inizio alla fine, e bravo anche Sterling K. Brown, il Randall di This Is Us, che in questo film fa una parte molto diversa, anche un po' fastidiosa e che vi consiglio di recuperare se ancora non l'avete fatto. Al settimo posto metto Anatomia di una caduta, un film che mi è piaciuto parecchio invece e che è un giallo thriller legal e parla di questa donna che viene accusata della morte del marito, caduto, anatomia di una caduta, è perché proprio si cerca di far luce sulla caduta di quest'uomo dall'ultimo piano di questa casa in montagna in mezzo alla neve e la donna è la principale sospettata, un film che ti lascia con l'amaro in bocca anche alla fine, anche perché la regista decide di non rivelarci mai chi è stato e come è morto il personaggio del marito. Quindi è molto bello perché lascia allo spettatore il compito di riempire i vuoti che si creano, soprattutto dopo il processo di questa donna che è interpretata da Sandra Buller ed è stata molto brava anche in questo film e la rivedremo nella zona di interesse. Al sesto posto metto The Old Overs, un film che mi è piaciuto molto, più leggero rispetto ad altri, con un Paul Giamatti in grandissima forma, l'avevamo visto sempre in piccole parti, ma Giamatti in questo film veramente fa una parte molto bella e parla di questo professore burbero universitario che si ritrova a dover passare le feste di Natale e Capodanno con uno dei suoi studenti e con una donna in lutto. E è una grande lezione sull'empatia che imparerà questo professore, anche stando a contatto con questo studente, ed entrambi impareranno dall'altro tantissime realtà e verità sulla vita. Quindi vi consiglio anche di vedere questo film di Old Overs, sembra girato negli anni 70 e fatto veramente bene anche dal punto di vista tecnico, non solo dal punto di vista della sceneggiatura e delle interpretazioni dei personaggi. Al quinto posto, Barbie, uno dei film più visti e chiacchierati e discussi dell'anno scorso. Greta Gerwig fa un lavoro straordinario raccontando la storia di una delle bambole più iconiche del mondo con una Margot Robbie in grandissima forma, con una scenografia perfetta e con questo passaggio di Barbie dal mondo di Barbie Land al mondo reale, con tantissimi riferimenti al patriarcato, al maschilismo, ma non mancano anche i riferimenti al femminismo. Quindi è un film sia per chi ama Barbie che per chi la odia e, se non l'avete ancora visto, ma credo sia improbabile, vi consiglio di vederlo perché lascia un bel messaggio, soprattutto per le future generazioni. E poi, comunque, una bambola come Barbie che ha trasformato la società non solo americana, ma la società internazionale meritava di essere celebrata con questo film che dà anche una morale molto importante e che credo che meriti di essere tra i migliori film dell'anno, soprattutto per l'accoglienza che ci è stata in sala e dal pubblico. Al quarto posto della nostra speciale classifica metto Povere Creature, col punto esclamativo sempre. Povere Creature di Lantimos, un film pazzesco, stranissimo, ma veramente lasciato di stucco e con una Emma Stone in grandissima forma. Parla di questa ragazza che viene resuscitata dai morti. Noi la vediamo che si stava buttando di sotto, si stava suicidando all'inizio del film, viene ritrasformata, rifatta rivivere, tipo Frankenstein, da uno scienziato interpretato da Willem Dafoe, trasformato, truccato in un modo inverosimile e alla ragazza viene trapiantato il cervello del neonato che aveva in grembo e quindi è come avere una persona adulta col cervello di un bambino e lei comincia a scoprire il mondo partendo dai bisogni fisiologici dell'uomo fino ad arrivare a tutte le scoperte poi che ne derivano, andando anche in giro per diverse città del mondo. Ho apprezzato tantissimo questo film che ci parla della inumanità e dell'umanità delle persone. Vi consiglio di vederlo su Disney Plus perché è fatto davvero bene, con dei colori pazzeschi e un finale che vi farà anche sorridere. Al terzo posto della nostra speciale classifica c'è Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, un film che parla di alcuni omicidi avvenuti in Oklahoma negli anni venti e sulla resilienza di questa donna che riesce, nonostante tutto, ad andare contro il marito corrotto e contro un Robert De Niro che in questi film, se non fa il gangster, ci va vicino e ho apprezzato tantissimo sia la scenografia, le musiche, poi Martin Scorsese è uno dei miei registi preferiti e mi dispiace che non ci sia Leonardo DiCaprio tra i candidati come miglior attore e una Lily Gladstone, anche lei bravissima, anche se poco sotto a Emma Stone, però Killers of the Flower Moon vi consiglio di vederlo perché è uno spaccato importante sulla storia americana e su quello che purtroppo è successo davvero negli anni venti. Al secondo posto della nostra classifica metto un film che mi ha letteralmente scioccato, La zona di interesse parla di una famiglia che viveva accanto, proprio al di là del muro del campo di concentramento di Auschwitz, questa famiglia era la famiglia del capo di Auschwitz, del funzionario nazista che gestiva Auschwitz. Noi non vediamo mai quello che succede al di là del muro, ma attraverso il sonoro. Questo film è agghiacciante e tutto parte dal sonoro, da quello che udiamo, dalle grida, dagli spari e da quello che si dicono i protagonisti nella normalità e nella naturalezza che c'è dentro casa con i bambini, i fiori, il cane, dall'altra parte del muro, tutto quello che sappiamo. Ho fatto anche una spiegazione del finale, della zona di interesse, con le lacrime agli occhi, vi consiglio di rivederla se non l'avete vista perché è un film davvero, davvero scioccante. Al primo posto non poteva non esserci Oppenheimer. Per me è il film dell'anno, Christopher Nolan lo adoro, ma in questo caso si è superato. Non solo lui, ma anche Killian Murphy, il protagonista. Parla dell'uomo che ha progettato la bomba atomica e che è riuscito, attraverso il progetto Manhattan, a dare all'uomo la prima bomba atomica e Nolan ci porta attraverso questo bianco e nero, ma questa dinamicità anche attraverso il montaggio, una fotografia straordinaria, un cast della Madonna, come dico io, nell'esperimento che avvenne nel deserto del New Mexico e che cambiò le sorti sia della Seconda Guerra Mondiale sia dell'umanità, perché è una profonda critica a quello che è successo, il fatto che l'uomo si sia dotato di queste armi di distruzione di massa e Oppenheimer, credo che sia il film dell'anno, sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista degli incassi che sono stati straordinari. Questa era la mia classifica dei film candidati a miglior film, ma voglio sapere la vostra, scrivetemela nei commenti, ditemi se siete d'accordo, che cosa cambiereste, qual è il film che vi ha lasciato di più tra questi, se li avete visti tutti. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è che azione, seguiteci su Facebook, Instagram e TikTok per restare aggiornati su tutto quello che riguarda i film e le serie TV. Al prossimo video!